Quel per ultimo posto di classifica faceva male al Pietracuta, trasformatosi da bella cenerentola dell'annata precedente a brutto natroccolo in questa. Il recupero perso contro i Torconca di mercoledì scorso poteva buttare giù ulteriormente la squadra di Ifregnani, che invece col Misano, utilizzando quello con tempo veniva definita zona Cesarini, stappa allo Sampani pervenendo al pareggio e addirittura arrivando al caviale con il secondo e terzo gol, complice anche l'espulsione dell'estremo ospite Cuomo. La vista tra le sorpresi di questo inizio di stagione rende subito l'idea. Dalla bandierina nasce il primo acuto, Torsani in area di rigore, si ritrova il pallone dell'1-0, Lassani ci mette i guantoni sulla ribattuta stella, cicca, clamorosamente, il pallone del vantaggio. Possesso palla a favore degli ospiti, Torsani apre per Antonietti, gran concursione comparata a plastica di Lassani. Antonietti, questa volta in versione assistman, serve il compagno Savioli, altra concursione comparata, questa volta in due tempi, di Lassani. Visse che va in gol con un'azione corale, partia da calcio a piazzato di Boldrini, finalizzata per ultimo da Torsani, tutto risovano dalla posizione di offside. Gol dunque annullato, ma quello reale arriva qualche minuto dopo. Stella si ricorda che quella porta l'aveva bucata qualche stagione fa e con tanti saluti a chi l'aveva portato a Pietracuta, regala questo colpo di testa al suo ex DS Sandro Conti e ai suoi compagni per 1-0, fin qui meritato. Savioli vuole partecipare a festiva del gol, ma la sua discesa con il relativo diagonale finale non incide ai fini del punteggio. Dal corner, Mularoni si lascia portare via a palla da Torsani, ma Lassani è attento sul proprio palo. Altro corner pericoloso, su cui Lassani si salva come può. Ad inizio ripresa, Visse pericolosissima da corner, ma il colpo di testa di Baldrini si spegne fuori, ma l'arbitro aveva ravvisato un fallo. Pietracuta che fa le prove del gol, questo attraversone al centro della di rigore è un segnale. Sidi Quini, su questo lancio invece in profondità verso Fratti, colpisce da dietro l'avversario. Per l'arbitro non ci sono dubbi, calcio di rigore, ingenuo in questo caso il numero 14, un certo numero 17 che sulla ruota di Pietracuta veniva visto come un numero sfortunato, decide di compiere il pareggio. Il marcatore si chiama Tazzi Baie. Il Misano commette l'errore di nervosissima, la punizione di Baldrini arriva alla sventola di Sanchez. Lassani rimane a guardare, ma non il proprio difensore. Mentre Fratti prova a indovinare la punizione giusta per dare un calcio alla sfortuna, ma nulla da fare. Ma a questo punto il match cambia. Cuomo raccoglie il pallone a giudizio del direttore di gara e riserva una gomitata volontaria a Tomasini. E per lui c'è il cartellino rosso e conseguente penalty assegnato al Pietracuta. I rosso-bru quasi non ci credono alla grande chance. Tazzi Baie, freddo come un colonnello russo, non tradisce l'appuntamento dagli 11 metri. Il sorpasso a questo punto è compiuto. Intanto, attimi di paura per Moretti che si rialza, ma nel finale arriva anche il Tris. Tazzi Baie è il migliore dei suoi, serve Tomasini che con un tocco morbido gonfia. La rete 3-1 e gioia meritata per il Pietracuta. Mentre il Misano chiude la partita con questo colpo di testa di Muccioli terminato tra i guantoni di Lassani. Pietracuta cinico come non mai, che rispolvera. Un freddo Tazzi Baie in un pomeriggio freddo e piovoso. Il Misano gioca per 60 minuti alla grande, ma commette l'errore nel giorno del cambiamento dell'ora legale di rimanere indietro nel tempo. Non spostare le lancette significa azionare l'orologio Tazzi Baie e l'ira di Cuomo riaccende i timer rosso-blu.